Ciao, siamo Audio Modeling, un'azienda specializzata nello sviluppo di applicazioni per la... eh... dei software per l'industria musicale. Allora, oggi siamo qui per visionare una squadra specializzata nell'allestimento della nostra nuova sede. Ragazzi, andiamo a vedere cosa stanno combinando. E adesso montiamo i torsti. Questo è per la difesa personale in ufficio. Penso che dobbiamo rismontare tutto il mobiletto, eravamo quasi arrivati alla fine, ma non ci siamo accorti di un ditino sulle istruzioni. Il mobiletto è prossimamente un'ora e 27 minuti. Secondo mobiletto, approssimativamente, siamo intorno ai 2 minuti e 45 secondi. Ultimo pezzo. Ce l'abbiamo fatta. Bella. Dichiaro questo armadietto concluso. Fantastico, mezza giornata, abbiamo montato tutto perfetto. Grandi. Grandi. Che squadra. Scusate, ma Stefano? Come è Stefano? È andato via prima, lo sapevo, non fa mai niente. Qua. Vediamo la condotta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.